Inizia la sua carriera di attore fin da bambino, ma si rese noto al pubblico mondiale per aver recitato in Love Actually, l'amore davvero, il mercante di Venezia e un matrimonio all'inglese. Attualmente vive a Windsor, dopo essere cresciuto tra Mamsbury, Canada e Hong Kong. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Chris Marshall è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane